ciao ciao ci diamo del tu certamente ciao emanuela come che che è successo che tu che cosa cos'è didatticarte scusa facciamo esatto partiamo dalle basi didatticarte è un blog in cui racconto la storia dell'arte in modo un po personale divulgativo divertente ho tutta una sezione dedicata alle raccolte a tema tra cui quella della famiglia ma ci sono anche i carciofi il carling il pattinaggio sul ghiaccio l'albero di natale c'è veramente un po di tutto ecco chissà perché pillone ha preso la parte sulla famiglia non quasi carciofi anche subito abbiamo pensato questa cosa e praticamente che fa lui ruba fargli screenshot delle delle tue sì perché si vede perché si porta via pure di tascalia ma anche furbo non è prendere solo immagini pure di tascalia io esatto qui il tuo blog aperto sul mio computer se vuoi lo guardiamo un attimo così ci rendiamo conto eccolo qua ecco questa ricordate gli egizi la prima che ha preso poi via 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 insomma lui va là ce ne sono tante ne riconosco tante sì ma pure noi ne abbiamo fatto vedere poche perché una volta a settimana tipo questa c'era me la ricordo sì esatto questa c'era me la ricordo sì ecco come le figurine ce l'ho ce l'ho questo ce l'ho è gogan abbiamo dato con gogan certo poi tu però dici io scrivi anzi gli ho preparato una sorpresa altizio che sorpresa gli hai preparato ho voluto rispondere con l'arte e quindi dandovi una nuova proposta per alimentare i suoi profili social quindi non per alimentare quest'altra raccolta vediamo cosa farà esatto ok io ce l'ho sono arrivato alla fine del blog della della pagina c'è scritto messaggio per il signor simone pillon dia un'occhiata anche la mia alla mia raccolta eros e arte le farà bene cliccare sulla scritta in grassetto per aprire l'album mi piace che tratta allora come un penso ci sarebbe arrivato comunque comunque prima di cliccare no voglio vederlo voglio vederlo torniamo sulla pagina torniamo un attimo che fa noi clicchiamo per facciamo finta di essere pillon e quello è questo esercizio immaginate di essere pillon aspetta dura poco e poi finisce una cosa veloce ok ecco se entrate nello spirito dei pillon ok che cliccate qua su eros e arte pia errore nello stabilire una connessione data base capito pillonne che poteri che ha hacker di pillon hacker di pillon ti ha saltato il server emanuela polvirenti è stupenda questa cosa fino a prima della trasmissione funzionava l'ho visto e anche io l'avevo provato questo è un colpo di scena stupendo questo è brutto c'era una raccolta c'era una raccolta dei greci dei pompei che questa è censura questa è censura e falsa lei è disperata guarda tranquilla tanto pillonne ci clicca comunque di sicuro incredibile non scusa neanche a me incredibile è una propria ma lui è un legend mica a caso appena ristabilisci tutto noi lo faremo vedere per forza ormai è una questione del principio anzi metteci qualcos'altro e io no no è andato proprio tutto un fulmine un fulmine dall'alto questa fa impressione e mo lo venderà come cosa divina pillonne è certo è certo io mi aspetto ci farà un post per cui chi tocca la famiglia gli saltano i blog ecco va beh che tutto sommato voglio dire dottoressa emanuela io ti ringrazio veramente compra un altro server emanuela polvirenti la legittima proprietaria di tutte le creazioni e le fantasie di simone pillonne va bene questo è un grandissimo momento fossi pillonne sarei molto contento in questo momento starei ridendo davanti al televisore come un pazzo io una certa paura anche se infatti non è che è successo